Siamo con Sebastiano Monti, che è il vincitore del primo side in cartellone qui al Day Event a Kranishka Gora. Sebastiano, complimenti. Grazie. Sei uno del settore, tra l'altro sei una floor man della Sala Nipe di Torino, quindi lavori con Davide Goffredo, che è il tuo titolare, no? Sì, con Davide Conte Billo, lavoriamo in Sala Torino. E' molto soddisfatto, tra l'altro, ha portato tanti giocatori, stanno avendo tutti quanti dei buoni risultati, diciamo che è un periodo d'oro per la Sala e proprio per voi appunto che provenite da questo circolo. Sì, siamo venuti su con tanti colleghi e tanti nostri clienti. Siamo venuti qui, infatti, per divertirci e per vincere, certo. Senti, tu sei un addetto ai lavori e quindi un tecnico. Cosa ne pensi delle strutture che ci sono in questo evento, quelle del side e anche quelle del main event? Le strutture sono molto giocabili, soprattutto quella di domani del main event, molto tecnica e speriamo domani che la fortuna continui. E delle location invece che dici? Come ti pare, Cranish Kagora, la tua prima volta qui? Che ne pensi? Sì, la prima volta che vengo qui, location stupende, bellissime le montagne, bellissimo l'ambiente e anche la gente. Bene, allora ti auguro di domani di riprendere questa fase rush e di vincere anche magari il main event, no? Speriamo. Dai, in bocca al lupo. Crepi.